benvenuti su aquascaping lab siamo fieri e orgogliosi di presentare una nuova sezione del nostro canale chiamata aquascaping lab kid questa rubrica sarà dedicata agli appassionati di modellismo scenari fantastici e diorami ma soprattutto ai bambini e genitori che vogliono comporre piccoli acquari di grande effetto scenico e rendere un allestimento ludico per i propri figli come molti di voi sarà sicuramente successo capita a volte di ritrovarsi in casa per vari motivi pesci rossi o pesci sicuramente molto resistenti acquistati o vinti in qualche luna park noi di aquascaping lab abbiamo pensato che spesso questi pesci vengono trattati non proprio benissimo messi in bocce oppure in acquari non adeguati come poter fare quindi per rendere la loro permanenza in casa nostra divertente e piacevole soprattutto per i bambini creare degli acquari a tema soprattutto con i personaggi più amati e e famosi del del mondo dei piccoli e avvicinare così anche i bambini al simpatico mondo dell'acquaristica c'è poi un'altra categoria di persone che sicuramente ameranno i nostri video aquascaping lab kid che sono gli appassionati tutti gli appassionati di videogiochi ad esempio oppure dei film storici come ad esempio star wars o il signore degli anelli sicuramente qui troveranno grandissimo divertimento e tantissimi spunti anche per poter creare un acquario anche se non bambini un acquario bello e efficiente ma sicuramente a tema con la loro passione sicuramente quindi acquascaping lab è conosciuta per i suoi allestimenti di tipo naturale nello stile takashyamano però non ci fermiamo e soprattutto pensiamo che l'acquaristica sia una cosa di tutti anche per i bambini e sicuramente i bambini non amano acquari certo e per noi adulti sono molto belli ma sicuramente per loro noiosi quindi abbiamo deciso proprio di inaugurare questa sezione per loro grazie per essere stati con noi su acquascaping lab in questo piccolo video di presentazione della nuova sezione acquascaping lab kid ci sarà da divertirsi se vi è piaciuto il video cliccate mi piace e mettete un commento qui sotto per ulteriori informazioni iscrivetevi al nostro canale per ulteriori novità grazie